Ce la farete a raccogliere tutti questi carciofi? Speriamo di sì. Oltre ai problemi del caro gasolio e concime, ci si mette anche quello relativo alla mancanza di manodopera che nei terreni delle campagne di Radispoli ha creato molti disagi. Cosa sta succedendo? Mancano i braccianti? C'è mancanza di braccianti agricoli, cercano di sopperire in questo momento con il click day, quindi tu devi fare una richiesta al ministero, si fa una richiesta di determinate persone, 3, 4, 5, quelle che servono all'interno di un'azienda, quindi una volta fatta questa richiesta bisogna avere fortuna che si rientra nelle 87.000 domande. Il problema è carenza di operaia già da molto tempo, noi cerchiamo di sopperire con familiari, con gente che è vicina a noi, ma non ci si riesce. Cosa si fanno di questi prodotti che sono in terra? Non vengono raccolti perché se non si riesce a portare a casa il prodotto che uno ha piantato rimane nel terreno perché le ore di lavoro sono quelle, noi agricoltori lavoriamo dall'arrivata del sole alla calata, ma oltre quello non si può fare nulla. Il commento di Riccardo Mirozzi, ex presidente della CEA Roma, si concentra sulla formazione che non viene fatta ai braccianti e che si dovrebbe svolgere per tenere in cura le piante degli ortaggi. Inoltre, afferma Mirozzi, il reddito di cittadinanza tiene lontano chi cerca un'occupazione.